quindi si stia a fare un po' freschetto ma io sta cosa del freddo e del caldo la odio si sarebbe da migliorare pure i punti di sopravvivenza che ti fanno allora se passi su quel suo ponte crepi te lo dico si gioca parte 56 volte allora noi il dungeon è dall'altra parte il fiume è lì di fronte dove c'è il ponte più o meno è quel palazzo lì ah ok dove è quel palazzo allora facciamocela a nuoto il problema è che quando vai nell'acqua congeli vabbè però per il momento ancora non ah tu sei già dentro ipotermia estremamente freddo al limite mi prendo prendo un verme guarda a me quello che mi spaventa è il bug che c'era l'altra volta ti ricordi allora mi pare di aver preso un verme e chiaramente non fa nulla si boh vabbè fa niente il verme ma è niente un po' di vita la sto perdendo adesso poi non so se sto perdendo poca rispetto a non averlo preso non so spero che lì dentro non si muoia di freddo perché lì quello lì nel dungeon quello là del dio del di di ymir lì dentro si muore di freddo quindi continuare a bere mangiare bere e mangiare zupe calde qua non lo so io sto a metà vita comunque anzi mi sa che mi metto giù un letto qua eh conviene perché mi sa che non ti fa comunque sti vermi non fanno niente non ho capito nulla ah ma qua non me lo fa mettere il letto perché c'è questo vabbè ma con queste cose qui di caldo non ti dà caldo queste cose qua quali? e le loro torce qui mi pare di sì ah no non sei tu queste furie l'hai preso questo obelisco tra l'altro che l'ho preso l'altro giorno ancora no ma tu dove sei andato a a incasinarti sotto il ghiaccio? io sono sono uscito un attimo da quella zona perché praticamente non mi fa rampicare col congelamento perché siccome perdo perdo vita ah ok vabbè aspetta che tanto vi ho posizionato il letto va vieni fuori torniamo su che ci dovrebbe essere un po' più di calore qui teoria molta teoria siamo qua che forse riusciamo anche a recuperare vita dovrebbe essere qua da qualche parte fammi un po' vedere tu là che c'hai congelamento questo dovrebbe essere se c'è estremamente freddo oppure riesci a no qua c'è molto freddo perché abbiamo le fiaccole del gioco in teoria un po' di caldo ce lo danno ah le fiaccole del gioco ti scaldano? eh sì sempre a fuoco è però il problema è che quando entraremo dentro io spero che si normalizzi la temperatura speriamo arriva comunque abbiamo pure scelto il percorso più cioè in mezzo all'acqua in effetti a me però non sarà fatto tutto il giro ah allora aspetta perché mo faccio una corsetta verso di te sperando ma ma tu c'hai qualcosa di caldo scusa dietro al limite no appresso no beh non te le portare mai cioè tutte le volte sta c'erano 14 piatti di non so che io mi scaldo qui più caldo ancora non ho visto dove sono vabbè ma io mi scaldo solo con la tua presenza non c'è bisogno di ma dai queste frate le dici solo perché siamo online in live comunque qua c'è da prendere il 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 teleporter l'obelisco cavolo non riesco più a parlare dove sei cara? aspetta fammi vedere il pallino ma hanno già hai visto che impiastro che è cioè tre ore per venire io l'ho già arrivata mezz'ora fa l'avevo già finito sto dungeon impiastro perché dici impiastro? perché lo so io perché mi chiamavano così a me allora dai dove ti sei cacciata? dove c'è l'obelisco l'ingresso forse del dungeon? eh vabbè però darei qualche indicazione oh eccoti eccoti trovata non so dove sei qua qua dietro di te ah ok siamo pronti io dico questi qua ti danno calore se ti metti qua tra l'uno e l'altro questa zona è calda si può per dire è calda si si vabbè sicuramente scaldano allora c'è una protesta da parte di mano scherzo perché? non lo so dice se infatti se continua non so che cosa allora vabbè dai forse qui dentro non lo so bene la strada io me la ricordo vediamo ma lì mette ah tocca stare attenti a questi ma infatti io non li attacco nemmeno più per non consumare l'arma ah vabbè sì qua ce devo fare da loro ma più che altro perché questi ogni colpo che ti danno ti levano ti mettono un po' di corruzione capito? quello è brutto sì sì qualcosa daranno ma credo solo vabbè in teoria davano qualcosa ah mi si è spento il cellulare ma che ore sono? nella realtà? sono le 5 ancora oggi è eterna la giornata comunque cioè allora questo qui non so se ma io spero di fare di non metterci tantissimo perché purtroppo fra un pochino senti ma stefano tutte le volte devi fare il dungeon poi dopo 3 secondi che uno arriva a fare il dungeon dici che devi andare via eh vabbè 3 secondi no dai però non so e non sappiamo dove è l'ingresso se lo sapessi allora qui non c'è nulla dobbiamo andare sopra qui incomincia di nuovo estremamente freddo estremamente rottura più che altro ahia che potta questo vediamo se e meno comunque questi scheletrini ecco dovrebbe essere qui l'ingresso se non me lo ricordo male l'hai preso l'obelisco poi giù si si l'ho preso ahia sono quasi morta praticamente ahiaiaia va vai perché questo qua mi ha fatto un sacco di mosse sto prendo anche vita per il freddo no ma sono morta per il freddo no no uff manuele mani eh dagli un'altra possibilità eeeh c'è vabbè tu l'hai messo giù il giaciglio si vicino al tuo l'hai trovato me l'ero nascosto si no no ma come hai fatto per il freddo ma c'è pure le funzioni cosa ma aveva tolto una marea di vita ma sto pensando una cosa ma non è che tu con l'ascia peggiori la situazione no ah si può essere lo sai infatti ho fatto la prova io adesso mettendomi l'ascia no perché allora quella lì va bene per andare a vulcano infatti ti fa freddo allora non la non la usare come arma cioè non te la impugnare e che che faccio vado a pugni no c'è c'è un'altra spada no Manu è veramente isterico non mi piace ma scusa ma perché quando sono nuda non perdo vita per il freddo cioè è una cosa assurda no che dice Manu mi interessa dimmelo dimmelo ha scritto cosa è brutta di me no no si vede che non è soddisfatto per l'andazzo della missione eh vabbè ma purtroppo troppo di avere pazienza abbiamo una donna nel gruppo sì perché te non ti sei perso per tre ore prima vabbè che c'è aspetta mi metto questa qui scrausa magari mi dà più calore tanto fanno tutto il coso vabbè dai procediamo no aspetta metto anche il cibo ricordati di impugnare un'arma diversa sì ho permesso di dire che mi mettevo l'arma diversa che arma c'hai però non è proprio scarsissimo no fa schifo ma tanto tutto il lavoro lo farà vabbè farglielo fa furia la furia sì vabbè dai proviamoci meno male che c'è un letto qua guarda io vedo molto più lenti i combattenti ma proprio cioè i nostri furia ci mettono un botto prima di iniziare a combattere a black e keep sarà la fortezza nera no giusto sì teoria allora qui abbiamo un po' d'acciaio che ce lo chiudiamo di ferro è un po' di cuoio ma dove siete tutti qua qua stavo combattendo con un tipo vai no ma i furia che fine hanno fatto furia la mia sta presto a me è il mio ah forse perché sei morta e sei rimasto ah già che stress ma l'avevo visto qui ah eccolo qua vediamo speciamoci va che ci fa anche poco tempo dovrebbero fare un punto di rinascita dentro il dungeon di solito così oh madonna e qui è strabuio ma tu questi mostri hai provato a picconarli se ti danno qualcosa si ossa però non sono andata a fondo anche perché ci riempiamo adesso poi allora ste vieni che c'è ah c'è la luce comunque qua dovrebbe essere l'ingresso del dungeon boh ma succhiata ha detto Manu che stava scherzando forse ancora ci sta seguendo ok qua dentro te la puoi rimettere Tasha vedo che non fa più freddo ma già non passa si comunque bisogna stare attenti giustamente Tasha da freddo si da freddo dunque vabbè procediamo carina vedi queste sono le catene che servono nella mia stanza non si possono levare guardate premie per interagire ah ecco questo che è mi pensi no ma al solito mia vita è così lontana il mondo non ha significato per me io non ho non ne ho per il mondo tutto passa tutto crolla vabbè ah ma chi mi è partito un colpo ma qua si può entrare no parteremo di qua di qua proviamo ma queste mi sa che sono delle celle praticamente se non mi ricordo male si sembra tipo una prigione antica o magari nascondevano qualche brutta bestia dentro ste grade dovessi sembra chiusa però la zona lo sai? sai io volo avanti finisco l'angelo da sola non avevamo poco tempo ah fammi incontrare che cattiva che sei avevi detto come trattavi meglio invece no ma scherzo vabbè cosa è sta porta una tira vabbè boh io non so la strada perché non me la ricordo sinceramente cioè so mi ricordo che avevo girato un sacco prima di capire qual era la strada vabbè andiamo dritti tiberlogica poi boh vediamo ma noi che riusciamo fuori di nuovo qua vediamo che non sono tutte uguali qua non si fa non è aperta era niente e si rimasero lì tre giorni allora boh sotto l'acqua che c'è no non credo non ci vede un tubo è un po' più buio questi dungeon qua c'è un'altra porta ma non si apre beh finito ciao finito il dungeon ok la nostra bella bella oh ma perché mi sta laggando aspetta che avranno attaccato qualche cosa questi in casa mi sta laggando dicando di brutto adesso torno indietro vabbè è enorme il labirinto cioè vabbè si ti aspetta perché se no mi sa che non ci troviamo manco più qua e il che poi la live è praticamente in piena notte non si riesca a fare una torcia ma il bello di sto modem è che posso ma quale ce l'hai? quello nero? sì quello nero tra basket si chiama no se ce la vuole allora vuole ok ora dovrei andare un po' meglio allora dove mi hai abbandonato qua vede qua no e ti aspettavo perché qua a quanto pare è un labirinto quindi se magari poi dici dove sarai buh non so noi da dove siamo arrivati non ci capisco niente qua dobbiamo andare allora da qua siamo arrivati noi da qua da qua sei sicuro? e allora dove dobbiamo andare? noi veniamo da qua ah qui c'è un altro viene un altro all'ingresso chi? ci sono queste due vie una di qua ah vabbè tocca provarle tutte perché io l'altra volta mi ricordo che ho fatto un stato di regola a girare oddio occhio occhio qua si può ti corrompere un po' vabbè quando trovi il tipo mi ricordo che era la strada giusta allora c'è sto cunicolo qua dentro dove è andato questo? dove è il cunicolo? perché ogni volta prendiamo due strade diverse dai seguo no ancora sto qua ma chi è il cugino? questo deve essere il cugino ma aspetta io mi metto eh perché se mi metto questo diventa buio io volevo mettere lo scudo ragazzi spostati però eh va un po' avanti con la tipa qua sembra una stanza chiusa tutto chiuso sta qua sembra chiuso proviamo proviamo l'altra buona zca sia una questa è la scelta tua io sarei andato di qua pensa tu sentite voglio che ti brucio quei capelli c'è la porta che si oh la porta che si apre bravo hai vinto tutte trappole adesso attenta attenta caspita spiegano di valordi ah ti valordi adesso sì peccato che i furia rimangono lì come i bt sì ma i furia li vedo più bloccati da sta faccia come mai io me li ricordavo un po' più svegli non lo so sarà qui dentro che c'è aria buona per loro manuele vieni a darci la mano tu che questi non possono combattere ok vai no per ora non è stato poi così drammatico pensavo peggio perché tu sei qua dentro no 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 e ma che è ah una scatola boh un lingotto chi ci sta solita robetta prendo tutto ma che te ne fai dell'erba no per rimarare le torce ragazzi io sono un pro player tu queste cose non ci pensi e dopo questa possiamo anche chiudere il canale scusa scusa io ci sto capendo più niente da dove siamo arrivati noi qua non c'è ancora niente ti aiuto io dai vieni vieni sì indie hai aiutato la gente venghi venghi allora noi abbiamo fatto tutta questa ala adesso proviamo a fare quest'altra vediamo se c'è qualcosa di più ovviamente era l'ala sbagliata chiaramente chiaramente quelli sono dettagli che è quella roba lì ma qua sembra un po' più carino come fosse ah vedi ci stanno questi cani cinesi draghi cinesi ma non c'è qui c'è anche una cesta ah un po' di botte c'è un po' di roba qua vabbè schiappo tutto io dai ma è roba zolfo stupidaggini varie non dite che ok qui c'è un altro brutto ceffo ok scusa ho dato una una sciata furia vabbè allora qui sopra niente ci metteremo più tempo a camminare che poi alla fine arriveremo però finché ci arriviamo allora Indy da che parte dobbiamo andare allora di qua c'è una grata dov'è di qua ma è sempre chiusa no va Indy dove è andato a finire Indy sparito Indy dove sei ah eccoti qua c'è una grata ma è chiusa non so se dall'altra parte ci siamo passati poco fa ma non no stavamo andando noi da stato giusto ok qua no si toccherebbe mettere dei segnalini per terra questa è una porta si ma sono tutte stanze mi sono non so se puoi portare vabbè guarda ragazzi pensateci voi ahia la corruzione in faccia mazza quanto dura poco sta porta vabbè la puoi riaprire la riapriamo si vediamo un po magari c'è qualcosa di gaillard ah qua c'è una si c'è una trappola che rimaniamo per tutta la vita questa è a pressione sicuramente bisogna prenderla per aprire qualche porta vabbè ah ma io l'altra volta non ho fatto sta cosa no no e come facevo a farlo da solo oh sti futri però te bloccano una cosa assurda si no ma infatti vabbè teniamola da conto sta trappola sta cosa questa pressione qui ce ne stanno altre due altre due ci sono tre porte vediamo che c'è al volo qua dentro aspetta io ci sto capendo più niente un'altra cosa a pressione vabbè senti ma andiamo avanti no qui non c'è niente qua c'è un'altra porta è tutta una porta questa è rimasta metà ah no ma non sono niente questi sostanze niente si sostanze non so se è una pressione che ti viene giù una ghigliottina e ti Song no la mia furia è rimasta là dentro ad esempio ho trovato il modo di ingabbiarla eeeh vieni di qua cara Sì, sì, sì Bisogna stare attenti perché potrebbero anche esserci quei cosi che sparano dalle pareti, capito? Come nei film di Indiana Jones Sì, oppure quei pungiglioni che escono dal terreno Ok Mamma mia, che labirinto La madre scale, oh Alla casa dove abitavo prima Quattro piani A quanto mi piace Lo sai qual è il mio tesoro? Le trovo dentro queste ceste Le padelle, le padelle, queste cose Le padelle le lascio proprio Tu, io sto contentissimo quando le trovo Padella, puoi c'è le padelle in questo gioco? Sì, c'è una padella di ferro, si chiama così Vabbè, aspetta, sto riparando la torcia, ok Ragazzi, io mi ricordo che dove c'erano i due boss c'era una stanza verde E lì vedo una stanza verde Ma questo chi è? Hai dato che mi è uscito fuori? Non l'avevo visto Ahia, ma in faccia ti colpisce Maledetto Aspetta, mi metto l'ambrosia sulla barra Ma? Che Come sei a... A corruzione, tu? Eh, un pochettitino ce l'ho Ma guarda, che carino sto posto A parte questi due brutti ceffi che stanno Venendo da questa parte Oh, furia, ma... Io mi trovo che ti incastrano Qua furia è rimasto incastrato, chi è? Ma questi danno da sanguinamento Aspetta, è la tua è rimasta qui, bloccata Ah, vabbè, ma tanto si sblocca quando cammino Uh, sta camminando indietro Vabbè Guarda, furia, come la vuole andare a aiutare Ma non ci credo Che gente Perché tra furie si capisce No, quella non è la furia, la tua, eh Ah, già, è vero, la mia è una Dalinzia Dalinzia Qua c'è anche una storia di questi due gemelli Ma non me ne ricordo Dovrebbero essere due re Che gli danno il cuore E quel cuore lì dovrebbe essere quello che poi puoi prendere il pet gorilla Oh, ma qua c'è un'altra stanza Sì, questa è infatti Aspetta, vediamo Cioè io pensavo di essere arrivato Mi sa che portano entrambe lo stesso posto Ahia Oh, santo cielo Io questi scheletri li ho già visti Qualche altro gioco, intendo Oh, scusami Dalinzia Tu ho colpito per sbagli Se tu quella scusa cerchi di farmela fuori Quella ragazza No, no, è simpatica Se non ha mai parlato Quando non c'era abbiamo fatto amicizzo C'è anche il video che lo testimonia Ah, ok, ok Subito contro Ah, sì Questi sono usciti dalla barra Avevano inizia a rompere le scatole Sì, due Sì, fuoriata Attacca un po' Ok E che carino Il loculo dove dormiva questo È proprio sotto la Chi è? Abbastanza qui dei costi cinesi A me viene claustrofobia qui dentro Ah, c'è un libro qua Tu? No Ricordi, sbiadisco Sento scivolare Vabbè Vabbè Non credo Non siamo persone colte Che si mettono a leggere i foglietti Allora, io sono una persona colta Perché la mia passione Era quella di leggere i libri Parli più Adesso cosa hai fatto? Ho aperto due porte Io ti rendo andare dritta Tanto mi sa che portano tutte e due Alla stessa porta Ci fidiamo Ci fidiamo Ma comunque io sto facendo un botto di esperienza qui dentro Non so perché Sì Ah, è stato tutto uguale qua Cioè, dico sempre Ah, laggiù c'è quella luce verde C'è la speranza Ma una domanda Se dovessimo crepare adesso Ritorna qua Eh, no, ma infatti ti stavo dicendo Ma nei dungeon non c'è una safe zone Perché in tutti i giochi c'è Non lo so Non lo so Non sono mai Eh, anche perché poi dentro Non te lo fa Mettere il letto lì Ma Aia Se niente Mi bloccano E sto per andermi nell'altro mondo No, no, no Non morire Vabbè aspetta Mi vado a riposare nel corridoio Tu scommetto che come al solito Non hai l'elmo, vero? Eh, l'avevo dimesso dentro l'armadio E non c'avevo voglia di tornare a casa Verso l'armadio Beh, parola Facciamo che ti piacciono i cirulli Che Com'è che ti chiami che hai in testa? Ma che cirulli? Eh, no Perché ci dovrebbe essere anche un'opzione All'interno del gioco Che tu c'hai l'elmo Però non te lo fa vedere Cioè Ah, ok Credo Ascolta, allora Allora io ho cliccato dentro sto baule Che era già aperto E mi ha trovato una chiave Prova a vedere se ti posso prendere anche a te Chiave antica Ha trovato una chiave, ah, sì Ok, perfetto Quindi che dobbiamo fare con questa chiave? Si può trapurire qualche porta? Boh, proviamo a entrare qua Dentro sta porta A vedere che succede Fai... vai, vacca, Dionisia Lì, come ti chiami tu? Dalinzia Dalinzia Chi è, Dionisia L'ho già sentito Come noi Era qualche... Sembrava... Sì, il nome di una dea Pure... Sì, appunto Sì, appunto Sì, appunto Sì, appunto No, è un piccolo cieco Però ho trovato dell'assenzio Buono per farci qualche bevanda Nelle nostre calde serate Lì, è davanti al camino Quali calde serate? Che queste sono tutte le roba Che ci serve per andare a fare Ymir Ma hai spulciato bene qui la cassa Amazzo, c'è più niente dentro Sì, sì, ho spulciato Ho schiappato tutto Qualsiasi cosa c'era E allora tocca andare dall'altra Ma il prossimo personaggio si chiamerà Dionisia Ah, che bellissimo nome, davvero Infatti, dove è uscito fuori nel mio cervello Questo nome Boh, forse lo dovevo aver sentito da qualche parte Ok Quindi questa era la zona che hai proposto tu Per carità carina No, io non ho apparto poca Veramente Quando l'ho proposto Vediamo da quest'altra parte Se c'era qualcosa di... Che poi tutto questo E noi abbiamo preso solo una strada all'inizio Ce n'era anche un'altra Completamente Che andava da un'altra parte proprio C'è un labirinto qua Se non ti ricordi le zone dove sei andato No, ma infatti è un casino Lì vedo una porta più grande rispetto a tutte Ho sbaglio Sì, sì, sì Sì Boh, proviamo ad utilizzare questa chiave No, non me l'ha fatta usare Me l'ha aperta così Eh sì, è polveroso dentro queste caverne Viene da tossire Sì, no Aspetta, però Ma non siamo già venuti su di qua Eh sì Cioè, boh Secondo me si va a fare il giro dell'oca Io non ci capisco più niente Aspetta, fammi vedere se... Poi come ho fatto a farlo non lo so Un'altra volta No, no, vieni, vieni Oddio, sta qua il tipo malefico Qua c'è un altro libro, l'avevamo già trovato No, sono tutti... Dove? Tipo... Attenta che le vanno un botto di vita Ah, i boss Mamma mia Sarà meglio che mi metto lo scudo Eh, Dionisia, brava Porca miseria, mi ha shottato Proviamo a farglielo fare ai cosini Sì, sì, farglielo fare assolutamente a loro Però mi sa che anche loro ci rimangono Eh, aspetta, non è arrivato il cugino lì Il gemello Ma mi sa che ci rimangono loro? Ad è brutto pure Ma quanta vita c'ha questo? Ma quanto è forte questo? Ehm... Infatti... No, no, è morto È morto, è morto È morto? Ma il fratello, scusa, il gemello non è venuto Il gemello si è cagato Eh, si è venuta la paura Comunque... Comunque si furia sarà bestia Cioè, lasciamo perdere Ma sì, ma poi tra l'altro il buono è che non... Non si consumano mai Hai preso il cuore? Sì, vai... Prova a vedere No, da solo ossa Perché in realtà poi credo che sia uno scheletro Sto tipo Vediamo se... Boh, troviamo... Sta cosa da imparare la legione di Silente, però Dove sarà? Ma lo vuoi? Lo vuoi il cuore? Te lo do a te, eh? Eh, dai, vabbè Basta che qualcuno ce l'abbia Se non mi ricordo male Puoi prendere il petto gorilla Ok, vabbè Poi dopo Oh no Boh Ehm... Ok Dunque serve Il cuore fa parte di tutti gli oggetti Tutti i vostri ci danno... Chi è questo? Io con il piccone in mano poi Ah, lo sei vicino da picconare? Tutti i vostri ci danno un oggetto particolare E alla fine li abbiamo messi tutti in quella cassa Che ti ho fatto bene Prima dei preziosi Sì, sì E quelli, tutti gli oggetti Alla fine ci serviranno per liberarci Dalla prigionia Dall'esilio Saremo liberi Saremo persone libere No, ma io non voglio liberarmi da te Preferisco venire schiavo Ma averti sempre vicino Ah, questo Cos'è questa luna? Forse è qua Devi usare utenzi di metallo stellare No, dai Dovremmo ritornarci Che stress Non è che questa è quella che ti dà la cosa Assidente Aspetta, io lo posso sbloccare Ah Lo potrei sbloccare Soltanto sbloccarlo O lo devi creare poi? Eh sì No, no Perché c'è scritto Devi imparare utenzi di metallo stellare Aspetta Fa vedere Però mi serve poco poco di esperienza in più Allora vediamo Stellare Qual è? Ma non me lo posso Di quello 55 No, io non posso perché non so Ma con 55 Che fregatura Io posso ma mi serve Mannaggia Tu e le tue idee No, ma mi serve poco Mi serve un po' più di esperienza Un po' a poco Sì, certo No, vabbè Ma anche sul server Pvp Se non la gente si uccide in base E fa punti Comunque ho capito Dove è il fratello gemello Perché praticamente questa zona Era Ma quando l'ho fatto io Erano un team due Contemporaneamente? Contemporaneamente, sì Era stato un casino farli Io ho capito forse dov'è Perché per venire qua Noi abbiamo Preso un corridoio Ma ce n'erano due Anche qua, vedi Devi imparare Sì, sì Guarda Mi servire Un pochino di esperienza Ah, perché tanto La legione di Silente Se non mi ricordo male Ti avevo detto Che ci serviva Aveva poi Il materiale stellare Il cosa stellare Per farla, no? E quindi Richiederà appunto Che tu già L'hai imparata La ricetta Io vivo qui E mi faccio 55 Io sono 52 Dovrò tornare qui dentro Non so se ti rendi conto Il stress No, ma io Io sono 55 Cioè, sto tutto pronto E c'ho anche L'esperienza quasi al massimo Per farmi il cosa Per farmi il Beh, l'importante è che uno Magari le impara I due Puoi imparare Prendere sta cosa Allora Proviamo qua Ma perché cammino così? Vado da allora Aia Mi spacco le gambe Un grido di dolore Credo che Ma non ci abbia abbandonato Comunque Non so Non ho più scritto nulla Non so Ah, era qua Mi sembra Perché Noi siamo andati a sinistra Che tu hai detto Quella porta è grossa, no? Ti ricordi? Sì, certo Beh Costati in 30 secondi Oh, qua ci sono gli amichetti tuoi Chi è? Guardali Oh, santo cielo Che schifo Che vogliamo fare? Eh, ma siamo un po' di amichetti Dai, ma siamo un po' di amichetti Magari qui c'è qualche altra ricetta Io questa non l'avevo vista l'altra volta, sto cosa Che evidentemente si è fatto quell'altra Ah, questi muoiono davvero easy Sì, sono dei babbioni E ora uscì la madre Gigante Ah, potete Piuttosto Cioè, a proposito di madre Non dobbiamo fare anche quel ragnone Dobbiamo fare, scusa, è andato che la voce? Il ragnone Tu ci tenevi tanto a fare la tarantola Ah, vero, vero, sì No, qua non c'è niente, però No, qua non c'è nulla Questa è una stanza Però è strano che non c'è nulla Questa stranza è una di ragni Ma è possibile che non c'è nulla? Va Anche per poi, magari le cose non le sai E le salti Perché quei libri ne manco si vengono Ah, c'è una cesta qua Vabbè Ma non c'è niente di che C'è la pelliccia, vero Sì, perché qui non ti puoi rampicare Tu sei sopra Ah, qua ti fa andare Ascolta, io butto un po' di roba Perché so pieno, mannaggia Ho preso tante di quelle cose Sì, tu poi hai razziato tutto alla grande Sì, sì Vabbè Quindi di qua Ma a che punto siamo Quella situazione punti L'esperienza? Sì Eh, me ne manca ancora C'è una tacchetta Però non la riempi così Cioè devi fare Parecchie uccisioni Proviamo, dai Proviamo a vedere D'altro ci manca solo questa L'ambini che è forte C'è un fantasma qua sotto No, ma quando ci sono questi Vuoi dire che fa parte della storia Ci dovrebbe essere qualcosa da imparare O no? Teorie Ce n'errà pure uno sopra in effetti Questi sono i classici prigionieri Messi dentro ste Che a forza di rim... Ah, senti Da Linzia Spostati Linzia Ti metto dentro la gabbia Se non te levi Sì, Stefano Ci ha lasciato le gabbie In camera Non so che cosa ti serve Eh, no Non devo dire ancora Che lei non deve sospettare nulla Ok, qua c'è Un micio gigante Un micio Quello sarebbe un drago Ah, ok Un drago cinese Eh, io penso che ci sarà l'altro fadellone qua Dove Queste l'hanno spostati L'hanno divisi Perché erano troppo forti in due Allora, due porte Ma, scusa Quella chiave ce l'avevo ancora dentro L'inventario Sì Questa chiave antica Che serve? No Beh Andiamo un po' se c'è qualcosa Una chiave antica Che grande spiegazione Uuuu Nooo Ma riesco Mi ha ricordato una scena di indie Che si buttava Comunque Cioè O è uguale all'altra parte Perché a me sembra Non ci sto capendo più niente Sinceramente Dove siamo Dove stiamo andando Che siamo già passati Gio la 56 volte qua Sì Sì Qua dove abbiamo preso la chiave In effetti Eh sì Perché qua c'è Baur L'ho aperto Qui Però Però cosa? C'era una parte che Sto perdendo Sì dove siamo stati adesso Scusa Che siamo orientati Dove Dove stavamo poco fa Sì stiamo tornando indietro Stiamo uscendo Stiamo tornando Praticamente Allora abbiamo fatto Il giro Sì Deve essere poi rotondo Sto coso Non so Senti Dalinzia Cacciatrice delle nevi Hai capito Ma questa non è la figlia Del Ymir Boh Dovrebbe Eh te la porti così Non hai paura Della reazione del padre Ti rendi conto Chi è il padre di questa? Quel gigante Dei ghiacci Il padre Ah Stefano Mi sa che è crollato E' crashato Oh no Semmo che crasha Praticamente Perderà la tipa Qui c'è un libro Ma sono sempre le stesse cose Vabbè Pissà che dovremmo Ritornarci Quando avremo la possibilità Di aver fatto questi Sbloccato questi strumenti Di Materiale stellare Dobbiamo un po' E' saltata la corretta Corrente ha scritto Che sfiga Mamma mia Vabbè ragazzi Mi sa che ci torneremo Qui a sto punto Quanto io non posso sbloccarle Lui gli è saltata la corrente Quindi niente Boh Io Chiudo qua Senti Manu Se ci sei ancora Ti ringrazio di aver visto Ti ringrazio di E' scritto E ti do appuntamento Una prossima volta Eh Guarda Hai visto che impiastro Che Che sfortuna Che sfortuna Anche perché adesso Dovemmo uscire da qua E andare in base Io non mi ci lascio Qui dentro Ciao Ciao